Eccoci qui, siamo alla sesta notte. Probabilmente credevi che fossi l'unico, disse il mago quando si rifece vivo. Questa volta era seduto su una sedia pieghevole in mezzo a un campo di patate infinitamente grande. L'unico cosa? L'unico mago dei numeri? Ma non è così. Sono uno dei tanti. Sì, nel paradiso dei numeri, da dove vengo io, siamo a migliaia. Purtroppo non sono il più grande. I capi veri se ne stanno nel loro ufficio a pensare. Ogni tanto c'è uno che si mette a ridere e dice frasi del tipo R con N uguale ad H con N diviso N fattoriale per F di N parentesi aperte più teta parentesi chiusa. E allora gli altri annuiscono, insegno di intesa, e ridacchiano anche loro. A volte non capisco nemmeno io di cosa stanno parlando. Per essere un poveraccio come dici, sei abbastanza risoluto, obiettivo Roberto. Vuoi essere compatito? E secondo te perché mi mandano in giro di notte? Perché i loro signori hanno ben altro per la testa e non vanno certo a trovare un appendista come te, mio caro. Quindi posso considerarmi fortunato perché mi compari in sogno almeno tu? Ti prego di non fraintendermi, disse l'amico di Roberto. Ormai i due erano infatti quasi vecchi amici. Quello che scogitano quei signori non è male. Uno che mi piace particolarmente è Bonaccione. Ogni tanto mi spiega le cose che ha scoperto. Italiano. Purtroppo è morto da un sacco di tempo, ma per un mago di numeri questo non conta. È davvero simpatico. Il vecchio Bonaccione. Fra l'altro è stato uno dei primi ad aver capitolo zero. Non l'ha inventato. Ha avuto lui la brillante idea dei numeri Bonaccioni. Come tutte le buone idee, la sua invenzione inizia con l'uno. Ma ormai questo lo sai. O meglio, con due è uno. Uno più uno uguale a due. Prendi. Prende gli ultimi due numeri e li somma. Uno uguale a uno. Uno più uno uguale a due. Quindi uno più due uguale a tre. E poi due più tre uguale a cinque. Di nuovo. Tre più cinque uguale a otto. Gli ultimi due. Cinque più otto uguale a tredici. Otto più tredici uguale a ventuno. E così via. Fino alla nausea. È ovvio. Il mago cominciò a recitare i numeri Bonaccioni. E seduto sulla sua soggiolina si abbandonò addirittura una specie di cantilena. Una vera e propria Bonaccionata. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 50, 55, 89, 140, 4, 10, 230, 337, 337. Roberto si tappò le orecchie. D'accordo, d'accordo, disse il vecchio. Ora smetto. Forse è meglio se te li scrivo, così riesci a ricordarteli. E dove li scrivi? Dove vuoi tu? Magari sul rotolo. Svitò la parte finale del suo bastone da passeggio. E ne strasse un sottile rotolo di carta. Lo gettò per terra, ridiede un colpo. Incredibile quanta carta c'era nel bastone. Un serpente infinito che continuava a srotolarsi seguendo i solchi del campo. Fino a quando lo svalì in lontananza. E naturalmente sul rotolo c'era tutta la successione di Bonaccione con i suoi numeri. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Da lì in poi i numeri erano così lontani e così piccoli che Roberto non riusciva più a leggerli. E allora chiese? Se sommi i primi 5 e aggiungi 1, ottieni il settimo. Se sommi i primi 6 e aggiungi 1, ottieni l'ottavo e così via. Bah! Disse Roberto, che non sembrava particolarmente entusiasta. Funziona anche se ogni volta salti un numero Bonaccione. Però devi sempre esserci il primo 1, disse il mago. Guarda, 1 più 1 uguale a 2. E adesso ne salti 1. Più 3. E adesso ne salti 1. Più 8. E adesso ne salti un altro ancora. Più 21. Se sommi questi 4, quale risultato ottieni? 34, rispose Roberto. Quindi il prossimo numero Bonaccione dopo il 21. Se questo sistema è troppo faticoso, puoi anche saltellare. Ad esempio, prendi il quarto numero Bonaccione e lo fai saltellare. Il quarto numero è il 3. E 3 alla seconda cosa dà? 9, rispose Roberto. Poi prendi il prossimo numero Bonaccione, il quinto, e fai saltellare anche questo. 5 alla seconda uguale a 25, disse Roberto senza esitazione. Bene, adesso sono questi due. 9 più 25 uguale a 34. Un altro numero Bonaccione, sclamo Roberto. E più precisamente, visto che 4 più 5 fa 9, è il nono. Bis, disse il vecchio fregandosi le mani. Ho capito, grandioso veramente, però mi piacerebbe sapere a cosa serve. Beh, disse il mago dei numeri, non credere che la matematica sia solo per matematici. Neanche la natura può fare a meno dei numeri. Persino gli alberi e le vongole sanno contare. Non dire bestialità, disse Roberto. Sì, tutte le bestie, credo, o almeno si comportano. Come se avessero in mente i numeri Bonaccioni. Forse hanno capito come funzionano i numeri.